Salve, sono Stefano Innocenti e per i BTT sto tenendo una serie di seminari relativi alla costruzione del team di lavoro efficace ed al rapporto con i collaboratori. Come comunicare anche in situazioni difficili, come organizzare un team di lavoro che funziona davvero e come favorire lo sviluppo di quelle soft skill che ormai, anche se sempre considerate trasversali, sono di fatto indispensabili su un posto di lavoro. Queste le tematiche che tratteremo insieme nel corso della nostra serie di incontri.